Manifestazione delle principali associazioni italo-cinesi del territorio fiorentino e pratese oggi a Piazzale Michelangelo per contestare la presenza del Dalai Lama in città perché sostengono gli organizzatori guidati da Luca Zhu, presidente dell'Associazione Generale Ramunion Italia il Dalai Lama avrebbe parole di pace per tutti tranne che per il popolo cinese a causa dell'annessione del Tibet alla Cina del 1954. Contro questo falso messaggio di Dalai Lama parla di pace ma porta il non pace, discussioni porta tutto quello effettivo negativo, è una cosa che ci fa un po' nausea. Noi siamo sempre quelli che non vogliamo disturbare a nessuno non abbiamo interesse di emergersi davanti alle telecarni però quando uno tocca il principio noi non siamo associazioni noi siamo semplici cinesi cittadini non è sopportabile uno che presta scusa di pace, di religione a fare il suo interesse politico. Molto apprezzata dagli organizzatori la presenza degli studenti cinesi di Milano arrivati apposta per sostenere l'appuntamento di Piazzale Michelangelo.